È un tema che è sicuramente venuto all'attenzione negli ultimi tempi, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Ovviamente con la visione che ha questa nuova giunta insieme al presidente dell'individuo al centro del nostro sistema di welfare e di sanità è chiaro che sia diventato uno dei punti fondamentali. Stiamo andando avanti, ovviamente anche solo parlare e mettere al centro dell'attenzione questo problema fa sì che ci sia un notevole passo avanti. Stiamo investendo risorse sia economiche sia di personale e quindi cerchiamo in ogni modo di far sì di recuperare il nostro gap che va avanti negli anni, ma ci stiamo lavorando. Questa è la nostra seconda conferenza regionale sulla salute mentale. La prima l'abbiamo fatta 18 mesi fa. Questa volta in modo tale che coincidesse con la giornata mondiale sulla salute mentale. Noi allora ponemmo 11 punti. Uno dei punti fondamentali era quello della partecipazione, cioè un coordinamento regionale fatto dal mondo del volontariato, il terzo settore, gli operatori del settore, che appunto approvasse un piano regionale. Un piano regionale su cui già dei punti fermi ci sono, voglio dire. Il primo punto fermo è la persona al centro della presa in carico, che è fondamentale. Noi abbiamo chiesto quindi alla regione che si attivasse in merito a una serie di questioni. Prima di tutto il personale, la carenza del personale. Se non c'è il personale tu non puoi portare avanti i progetti. L'utilizzazione di fondi dedicati, che ci sono, fondi nazionali e fondi europei, che pongono al centro la salute mentale, un altro aspetto. Terza questione importante è il budget di salute. Cioè nel senso che, se il budget di salute è tu dai un finanziamento a quella persona che ha problemi di disabilità perché possa vivere in piena autonomia. Quindi questo porta ad una deistituzionalizzazione o una prevenzione della istituzionalizzazione. Su questi punti, diciamo, la parola magica fondamentale per noi è la integrazione socio-sanitaria, che senta trattino, come dice sempre Don Giacomo Panizza, a questo punto di vista. E altra questione importante e fondamentale è quella delle reti. Noi diciamo che le reti formali, in questo caso i servizi sociali, il distretto, e le reti informali, volontariato, mondo del terzo settore, parrocchie, centri sociali, devono tra di loro lavorare nel territorio per raggiungere gli obiettivi che ci proponiamo. Grazie.